Cosa c'è? No, stai facendo il video o no? Ah no, sono nascuto un po' Cos'hai comprato? Le pecorelle perché lavoro nel mondo dello spettacolo aspetta, mondo dello spettacolo mi servono le metti in preventivo alla Nelisa Costa aspetta ci vuole la musichetta facciamo anche la base musicale facciamo questo cucchino vai perché io lavoro nel mondo dello spettacolo se a qualcuno interessa sono disponibile allora facciamo così visto che tu stai a diventare un personaggio famoso no, ma più famoso di quanto tu non sia dovrai anche spiegare il motivo di questo acquisto di questo acquisto? Compulsivo? no, non di questo l'acquisto è perché io a lavorare nel mondo dello spettacolo ed essendo un istruttore cinofilo peraltro collega del noto Fidentino Luca Rossi collega io prima di lui e niente, questo è sulla show con dei miei amici sono amici basta dire cazzate svegliano vai saluto allo studio a voi studio a voi studio Grazie a tutti!